Grandi risultati per la FD Trilli di Magliori. L'associazione sportiva, diretta dalle istruttrici Lucia Gaglione e Alessandra Sessa, è giunta a classificarsi ai campionati nazionali di ginastica ritmica che si torneranno a pedere. Le atlete Daudia Alissia, Daudora Caretta, Proto Giannira, disputeranno la finale nazionale di Serie C a squadra e sarà una delle squadre più giovani in gara. Gli allievi Rizzo, Fiorillo, Capone, Ferrara, Proto e Bellanno hanno conseguito ad Avellino il titolo di campione regionale di Serie D di ginastica ritmica a squadra e si sono qualificate per la finale nazionale. Ormai da anni l'associazione Cotrilli costituisce un punto di riferimento per lo sport in costiera amalfitana. Ormai da anni l'associazione Cotrilli costituisce un punto di riferimento per lo sport in costruzione. Ormai da anni l'associazione Cotrilli costituisce un punto di riferimento per lo sport in costruzione. Ormai da anni l'associazione Cotrilli costituisce un punto di riferimento per lo sport in costruzione. Ormai da anni l'associazione Cotrilli costituisce un punto di riferimento per lo sport in costruzione. Ormai da anni l'associazione Cotrilli costituisce un punto di riferimento per lo sport in costruzione. Ormai da anni l'associazione Cotrilli costituisce un punto di riferimento per lo sport in costruzione. Ormai da anni l'associazione Cotrilli costituisce un punto di riferimento per lo sport in costruzione. Ormai da anni l'associazione Cotrilli costituisce un punto di riferimento per lo sport in costruzione. Ormai da anni l'associazione Cotrilli costituisce un punto di riferimento per lo sport in costruzione. Grazie. 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 Grazie.